Allora carissimi, bentrovati, benvenuti, ben ritrovati sul canale. Ci siamo lasciati ieri con la promessa di commentare qualcosa di quarto grado. Io non ho avuto ieri sera il tempo di poterlo vedere perché è impegnato in una festicciola, una bella festicciola giovanile di 18 anni di un nipote, ma non mi sono perso niente perché poi, grazie pure alle mie collaboratrici che mi hanno inviato un po' di materiale, mi sono dovuto appuntare un sacco di cose oggi perché sarà veramente un video lungo, lungo, forse anche divertente perché mi hanno inviato gli estratti di questo grado, fra l'altro. E che volete che vi dica? Io continuo a trovare questa informazione, questo tipo di informazione pubblica sempre più imbarazzante perché, vedete, si insegue il dio audience, ecco, l'audience ad ogni costo e quindi su questo caso specifico di Liliana purtroppo l'audience non può che essere rappresentata da questa fantastica storia d'amore fra Serpin e Liliana che pur essendo, secondo me, totalmente inventata, almeno nei termini così come raccontata, attira, certamente attira molto l'attenzione della gente e va dato in passo alla gente una audience in questi termini. E invece non fa molto audience, certamente, un sebastiano che non può fare altro che dire quella che era la sua vita di tutti i giorni, sostanzialmente, diciamo, una vita anche felice, anche fatta di viaggi, una vita a volte pure magari in bianco e nero, ma una vita, tra virgolette, normale. Per cui poi un brutto giorno di dicembre accade qualcosa di inspiegabile. E per tutto questo, tutto questo è troppo banale, troppo banale non fa audience, non fa audience. E non fa audience nemmeno più un altro personaggio che non viene più invitato, poverino, cioè Fulvio Covalero che da quando si è, vedete, questo caso è così strano che Fulvio Covalero, da quando si è dichiarato l'amico normale, normale di Liliana, non viene intervistato più dalle tv. Ci avete fatto caso? Forse perché la normalità non fa più notizia, non fa notizia, specie in questo caso. Avesse detto, non so, che magari aveva visto di notte Sebastiano a girarsi per il boschetto, allora magari le troupe televisive si sarebbero accampate, ecco, sotto casa sua. Invece, specie da quando il buon Fulvio Covalero ha esternato dubbi, dubbi sulla figura di Sterpin, non solo, ma anche di Salvo e di Gabriella, ecco che è stato delegato in una sorta di isolamento mediatico. e continua, e continua, ahimè, a vivere e vegetare al buzz, anche quale bravo Novax. Porca miseria. Allora, quarto grado, quarto grado, quarto grado. Allora, ecco che ieri a quarto grado va in onda il solito balletto, un balletto che io ritengo dell'assurdo. E ancora una volta resto qui a sottolineare, a evidenziare una cosa che dovrebbe essere logica, dovrebbe essere deontologicamente cosetta, ovvero la verifica delle fonti quando si dice qualcosa. E non attribuire qualifiche ad altre persone se non sono state verificate, o quantomeno, quantomeno, differente alla fonte che fa una certa affermazione. Non dico niente di nuovo. Si continua a dire a milioni di italiani delle cose che non risultano vere. Almeno non risultano provate. Ad esempio che, ho sentito, ieri mi hanno mandato questo frame, questo pezzo, dice Liliana, non ne poteva più del marito e lo voleva lasciare. E ciò è anche provato, ovviamente è provato, da una ricerca fatta su internet, su come divorziare senza avvocato. A parte che questa è una ricerca di Salente circa sei mesi prima, quindi non c'entra un'eventuale frequentazione con Serpino, ma è troppo poco per trarre delle conclusioni. Noi normalmente facciamo decine di ricerche su internet di cose che non ci interessano personalmente, tipo, non so, se uno dice, vediamo gli effetti della cocaina quali sono, allora dice, ah, ecco, alcuni mesi fa avevi fatto la ricerca sugli effetti della cocaina, quindi significa, non credo. ma poi è un assurdo anche logico, perché un divorzio senza avvocato avrebbe dovuto presupposte un accordo con Sebastiano, perché così si fa il divorzio senza avvocato, un divorzio consensuale, ed è assurdo, in quanto poi si dice che nessuno li ha mai visti litigare, tempi d'amore e d'accordo, e quindi come che nessuno li ha mai visti litigare, ma forse c'era un accordo consensuale? Poi invece, se vi fosse stata un'intenzione solo di una parte di ottenere il divorzio, ma non credo che ci sarebbe stata, diciamo, una problematica legata ai soldi di consultare un avvocato, no? ma ancora più scorretta, veramente più scorretta a livello informativo, a mio avviso, ho trovato le parole pronunciate in un servizio filmato che pure mi hanno trasmesso, in cui si diceva, ad esempio, fra virgolette, la lotta, la lotta fra i due uomini che hanno amato Liliana, la lotta fra i due uomini che hanno amato Liliana, ma chi sono questi due uomini che hanno amato Liliana? Uno è il marito, che certamente è stato insieme 33 anni, l'avrà amato, non l'avrà amato, bene, male, ma l'altro uomo che ha amato Liliana, chi è? Cioè, dove è la dimostrazione di questo amore? si presenta un servizio dicendo i due uomini che hanno amato, poi Claudio e Sebastiano, i due uomini della sua vita, ma dove? Ma quando? Quando? Dov'è questa attribuzione di uomo della vita? A Claudio Serpino, uomo della vita? solo perché lo dice lui, solo perché una persona sostiene di aver avuto una relazione in un certo modo, quella diventa automaticamente vera, cioè è difficile capire questo concetto, non lo so, forse per via di un camp, di un camp, si era detto, no? Ci sono poi, vedrete, migliaia di messaggi che confermano la storia, e cose, poi non è uscito uno solo, e quindi non essendo uscito nemmeno uno, dice vabbè, ma poi alla fine certe cose ce le dicevamo a voce, ce le dicevamo da vicino, mica che uno si mette a fare i whatsapp, i messaggi, no, 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 è per carità, quindi, ma, questo dico io, perché viene creduto una persona che dice è vera questa cosa, e non viene creduto un'altra persona che dice non è vera, quindi, dovrebbe, chi afferma una cosa dovrebbe dimostrarla, dimostrare, quindi, come fa l'informazione a prendere per vero qualcosa che dice una persona che non dimostra, come si prende per vero quello che dice una persona come se fosse un sommo profeta, quindi, fosse una pagina di Vangelo, un oracolo, vi ricordate l'oracolo di Delphi, c'è il Dio greco che si esprimeva attraverso, come diceva, come diceva Socrates, attraverso la sacerdotessa Pizia, l'oracolo di Delphi, che dichiarava attraverso la sua sacerdotessa che nessuno al mondo era più sapiente di lui, ed è così, sarà così l'oracolo di Delphi, ora, per carità, tutto può essere, non lo voglio escludere, e non lo escludo, ma è come si presenta qualcosa che poi induce nell'opinione pubblica una convinzione, quindi, non si può accettare che un'informazione che deve essere oggettiva si dica anche ad esempio c'è il duello tra i suoi due uomini, come si può dire c'è il duello tra i suoi due uomini, ma è stato accettato che erano i suoi due uomini, secondo quale fonte, vedete, una cosa ripetuta, anche non vera, diventa realtà, perché io non dico in assoluto che non è vera, ma tutto ciò che è maturato negli ultimi mesi, questa storia, queste cose, queste forme di baci, carezza, eccetera, doveva venire a casa mia, e non è dimostrata da nulla se non le parole di un soggetto, e ripetute costantemente diventano della realtà anche per questi programmi, incredibile, e non sappiamo mai, quindi non veniamo a sapere se questo uomo poi è un mito o un mitomane, e credo per fortuna che c'è la procura della Repubblica che non andrà appresso a dei luoghi comuni, mi scrive Maria Grazia, mi scrive Maria Grazia, ma sai, Sebastiano ha detto che aveva tanti ritagli di giornali di sterpin, allora significa che gli voleva bene quello che lo scrivono, ma allora, io dico, amica mia, stiamo, stiamo parlando della pre-storia, cioè stiamo parlando della pre-storia, di ritagli di giornali, come si faceva, si facevamo da bambini, si facevamo da ragazzi, guardate, che stiamo parlando di pressoché 35-40 anni fa, anche più di 40 anni fa, in un mondo in cui c'era ancora il bianco e nero, ancora il bianco e nero, ma se andiamo nella mia cantinola giù, io devo avere ancora, pure io, qualche scatola, qualcosa, con dei ritagli, dei ritagli all'epoca, mi piaceva tanto Nella Mutti, tagliavo degli articoli, delle sue fotografie, sono stato innamorato, quindi anche io ho avuto una storia con Nella Mutti, ma non solo, anche con, sapete, con chi? Articoli, tanti ritagli, tanto tempo fa, Gianluca Pagliuca, Gianluca Pagliuca, ex postiere dell'Inter, un mio figlio, si chiama Gianluca, proprio ispirandomi a lui, anche io ho avuto una passione con Gianluca Pagliuca, eppure, eppure, eppure ricordando, ma anche, anche Fulvio, Fulvio Covalero, chissà quanti ritagli di Verstappen, eh, non me la racconti giusta, tu e Verstappen, eh, caro mio, va bene, poi ne parleremo, sono, vedete, delle, 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 delle puerilità, diciamo, quasi da sede infantile, perché, sono, appartengono a tantissimi anni fa, in una scatola, da scarpe, in cui ci sono tanti di questi articoli, di tagliati, Liliana da, da giovanissima, praticava, attività agonistica, e quindi, diciamo, a quell'epoca, a Napoli si dice, l'epoca di Pappagone, che è un personaggio di, di Peppino De Filippo, vi ricordate, ma guardate, ma qua veramente, con tutto il rispetto, c'è da ridere, ma, ci sarebbe da piangere, allora, Liliana che da, da ragazza, praticava questo sport, all'epoca ci stava questo Serpin, che, era, un, un campione, che ha vinto tanto, per scarità, medaglie, quindi, era un po' l'emblema, sportivo, della, della città, quindi, cara Maria Grazia, se diamo impostanza, a queste cose, i ritagli, di 40 anni fa, ma siamo veramente, alla canna del gas, e, ovviamente, poi, il Sebastiano, parla a ruota libera, perché, per lui è normale, è normale, dice quello che pensa, è normale, ma, chi vuole vedere il male, riesce a vederlo dappertutto, vedi, il male, lo si vede anche, come si dice anche, dalle mie parti, lo si vede anche, nella Madonna di Pompei, si dice, dalle nostre parti, se uno vuole parlare male, ma, perché, questi, che ritagli, dei fogli, degli articoli, dei giornali, Serpin, in bianco e in nero, ma, la realtà, la realtà, eh, detta da Sebastiano, ed io, e dico sempre, detto da lui, perché, bisogna direle ai fondi, vedete, come dice Sebastiano, Liliana, in realtà, erano, erano tanti mesi, che, non aveva, tanti, tanti contatti, con queste, con queste persone, e mi riferisco, in particolare, ai vicini di casa, che, non voleva, nemmeno uscire, con loro, perché, almeno, a suo dire, Liliana, gli aveva confidato, degli atteggiamenti, di salvo, che non gli piacevano, gli aveva confidato, anche qualche rapporto, non buono, con Gabriele, ma, ma, a vedere, poi, tutti i post, tutte le cose, sembra che ognuno, adesso, sia diventato, l'amico del cuore, l'amica del cuore, vedete, tutto, ed il contrario, di tutti, ci si aggrappa, agli specchi, è una cosa, poi, chi è l'amico normale, come Fulvio Covalero, diventa, dimenticato, dalle tv, perché ha osato, ha osato, essere, normale, ha osato, essere normale, non additare, questo, l'osco figura, di Sebastiano, al pubblico ludibrio, eh, eh, e poi, mi deve spiegare, quanti articoli, di tagliate, di Verstappen, c'ha, c'ha, a casa, ecco, magari, si immagina, che uno abbia, le pareti, trapezzate, di, di questi personaggi, con me una volta, con la Muti, Liliana, con le stanze, tappezzate, salpini, 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 tutte le pareti, vabbè, diciamo che, in effetti, bisognerebbe difendere la, la memoria, invece, con più serietà, veramente, guardate, mi piange il cuore, bisognerebbe difendere, la memoria di Liliana, che, era una Liliana, che, messe fa, messe fa, prima che, ormai, si, si, si sfociasse, in, 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 questo degrado, che, che, era una Liliana, che aiutava gli altri, che aveva tanti amici, eh, che amava fare le cose semplici, non esce fuori bene, in questo modo qua, e ci sono, e ci sono degli amici, che non sono mai apparsi, né in tv, né hanno rilasciato interviste, che, potrebbero rendere, almeno testimonianza, di chi era, Liliana, della sua, umanità, della sua, semplicità, ho saputo, ho saputo di, carissimi amici, di cui dico solo il nome, per carità, non voglio, però, alcuni carissimi amici, proprio suoi, come, Libio, come, Ricchi, come, Marina, con il marito, che hanno avuto, come dire, magari, contatti molto forti, con Liliana, e anche con Sebastiano, perché, non, non far sentire la voce, di chi conosceva bene, la persona, io spero, che si facciano avanti, non dico pubblicamente, magari, rilasciate, qualche, qualche intervista, alla casta stampata, insomma, non può essere, che, passi l'idea, di che, Liliana, sia quella, che all'improvvisa, ad agosto, del, dall'agosto del 2021, al, quel 14 dicembre, eh, si ammattisca, per il vecchio amico, il vecchio amico, in bianco e nero, del Serpin, che, che poi, si butta fra le sue braccia, vada a casa sua, vada nella vaschia, lo massaggio, che non vede l'ora, di fare i weekend, di, di fare il trasferimento, a casa sua, e, poi, eh, dopo, un periodo, di permanenza, nella, della tavernola, di andare anche, nel suo letto, nel suo talamo, nel suo letto, a fare, a fare nulla, a fare nulla, ovviamente, perché, perché, eh, perché poi, visti i problemi, dichiarati, dichiarati, dallo stesso Serpin, è davvero, vedete, è davvero vergognoso, accettare, tutto ciò, tutto questo, degrado, eh, senza, senza la prova di nulla, cioè, accettare di dire, lei faceva così, andava così, voleva lasciare, voleva andare, eh, il sogno della vita, voleva cambiare vita, ma cosa, ma chi ve lo dice, dove, 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 dove dimostrare questa cosa, dove, dove c'è la prova, una sola prova provata, una sola, prova che, non sia equivocabile, perché si deve dire questo, io mi chiedo, perché bisogna dire cose, non dimostrate da nulla, e quindi non vere, fino a prova contraria, e quindi, dicendo questo, si perde di vista, ecco, l'unica, l'unico vero scopo, l'unico scopo, cioè, quello di scoprire, come è morta, dell'unico vero scopo, dell'unico vero scopo, questo dovremmo scoprire, non fare gossip, 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 a senso unico, chi le ha fatto del male, oppure, si è suicidata, come si è suicidata, perché si è suicidata, perché si è suicidata, la procura, credo che a breve, darà un primo risponso, e lo darà anche ai principali protagonisti, di questa vicenda, e quindi, chi di loro, sa di avere qualche responsabilità, dovrebbe cominciare ad aver paura, dovrebbe cominciare ad avere paura, che la verità, come l'acqua, penetri lentamente, ma zivi fino in fondo, quindi questo, tenevo a sottolineare, nel video di quest'oggi, e ancora una volta, che non si può attribuire, quindi un ruolo, a un soggetto, soltanto perché lo dice, lo dice lui, dovremmo andare tutti, remare, nella stessa direzione, nella stessa direzione, della verità, ecco, di conoscere la verità, non di sostenere le tesi, di dire i fatti, veramente, è qualcosa di, ridicolo, continuare a sostenere, delle posizioni, senza, la minima prova, di nulla, perché se si deve credere, senza prove di nulla, allora, ecco, un domani, questo signore, vi dirà, e mi rivolgo, ai genitori, soprattutto, che, magari, non lo dicano, i bambini, ma, se questo signore dice, che, e lui è babbo natale, allora, bisognerà credere, alle sue parole, e lui è babbo natale, non so, se è una bella notizia, questa, non lo so, grazie amici miei, grazie della pazienza, con la quale, mi ascoltate, vi voglio un mondo di bene, grazie per far crescere, il canale, in questo modo, così, bello, così, così veloce, io, vi voglio bene da morire, e vi abbraccio, dal profondo del cuore, ciao a tutti quanti, grazie a tutti,